Un sistema di ripresa con un lente planiforme davanti ai bloggi distanziato a 1,8 cm e eventualmente con un retino simulante, un fly, un elemento ad occhio di mosca che permette di avere i risultati di ripresa, di profondità. Vi saluto. Mi sperimentando con i retinocchi di mosca, posto direttamente a contatto con le due lenti della bloggi sonni e davanti alla lente planiforme si ha un interessante effetto emulante il sistema dell'NHK protosteroscopico che usa una lente, una grossa lente, un lente a occhio di mosca e dietro la videocamera. Al posto della videocamera, al singolo obiettivo abbiamo i due obiettivi della bloggi sonni con il contatto dei elementi traforati a occhio di mosca più la lente planiforme. Mi saluto. Mi saluto. Mi saluto. Grazie a tutti. 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 . . . . a tutti. . a tutti. . . . a tutti. , a tutti. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti